Nuovo bando per il cantiere di Possaccio, lo spazio giovani del comune di Verbagna che viene affidato alla gestione di terzi. La prima novità riguarda i destinatari del bando. Sarà aperto a tutti gli enti e associazioni di qualsiasi tipo, purché garantiscano che il cantiere sia un punto di ritrovo per i giovani e prosegua con i fini per i quali è nato, tra i quali il progetto di circuito di sale prove e musica media, con il quale nel 1999 la struttura è stata dotata di una sala prove. A disposizione è anche una sala video, sala per registrazione, uno spazio multiuso, un ampio giardino, un ufficio, una stanza che può essere utilizzata per altre attività, ma che in caso di votazione è vincolata come seggio elettorale. Il gestore dovrà garantire almeno 20 ore di apertura settimanale, distribuite in 5 giorni, sabato compreso, e nelle altre ore si potranno ottenere altre attività, come ad esempio corsi di teatro, di musica, eventi di intrattenimento, anche a pagamento, purché autorizzate. Il comune darà un contributo di 2000 euro l'anno, oltre al 50% delle spese di gestione e si riserva l'utilizzo per 35 giornate l'anno. Le domande devono essere protocollate in municipio entro il 13 gennaio del 2012, si avverrà poi un periodo di prova della nuova gestione fino a luglio. E subito è polemica, lo di Miro Di Gregorio dei comunisti italiani e Andrea Gniemi di Rifondazione Comunista contestano il contributo comunale e si vuole uccidere questa esperienza, è un bando che peggiora le cose. E con una lettera ironizza Matteo Pelletti dell'associazione CUL che attualmente gestisce il cantiere e paragona il nuovo bando alla profezia maya che indica nel 2012 la data della fine del mondo. Secondo Pelletti, sostenere metà delle spese di gestione e ricevere un contributo di 2000 euro a fronte dei precedenti 10.000 significherà dover obbligatoriamente produrre guadagni e mettere in secondo piano le attività benefiche o di volontariato, perdendo il valore di non discriminare gli utenti in base alle possibilità economiche. Inoltre il bando prevede di depositare 10.000 euro come cauzione per eventuali danni. Pelletti annuncia di voler combattere questa battaglia per non vedere trasformato il cantiere in un capannone industriale dove possa entrare solo chi ha dei soldi da spendere.